Ucraina, parlano solo le armi, esplosioni stamane a Kiev, mentre continua la sanguinosa contesa di Solidar. 17 bombardieri strategici russi, Tulopev, sono decollati dalla base di Olin Gorsk nella Russia nord-occidentale. Il bilancio delle famiglie è sempre più compromesso dalle cosiddette spese obbligate, cibo e bevande, trasporti e casa erodono quasi il 60% del bilancio medio mensile dei nuclei familiari italiani. Una peregrinazio solenne per il beato Rosario Livatino, il giudice ragazzino di 38 anni, ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990. Dalla Camera al Senato alla CSM, la camicia intrisa di sangue del beato sarà fino al 21 gennaio nella capitale a promuovere l'iniziativa l'arci confraternita di Santa Maria o di Gitria dei siciliani. Edizione di Mezzogiorno, ben trovati e buon sabato dalla redazione della TG2000. In Ucraina continua la battaglia a Solidar, mentre questa mattina Kiev si è risvegliata sotto l'attacco di nuove esplosioni. Segnali sempre più intensi di guerra nell'assenza di spiragli di pace. Ci aggiorna subito Marco Burini. Bombe, missili, droni, granate, carri armati, trincee avanzate, ritirate, incursioni, evacuazioni. Dopo 325 giorni parliamo solo di questo. Usiamo solo il linguaggio bellico. Non facciamo che raccontare di paesi e città distrutte, persone ammazzate, soldati ammassati al fronte, massacrati a centinaia, migliaia e chissà quanti ancora. Zelensky dice che a Solidar la battaglia non è finita e incita la resistenza, mentre la cittadina vicino a Bakhmut è un cumulo di rovine. La guerra in Ucraina si avvicina al primo anniversario senza una fine in vista dei combattimenti o delle sofferenze. La logica che prevale è quella militare, con poco o nessun margine di dialogo in questo momento, ammette il capo degli affari politici dell'ONU, Rosemarie Di Carlo, parlando al Consiglio di Sicurezza, dove il rappresentante russo, Vassilin Ebensia, ha detto che l'operazione militare speciale, così il Cremlino insiste a chiamare l'invasione, finirà solo quando non ci sarà più una minaccia per la Russia dal territorio ucraino e non ci sarà alcuna discriminazione per la popolazione di lingua russa. Insomma, non è cambiato niente nella testa di Putin. E così ci tocca fare il solito lugubre elenco di attacchi sulle città, le infrastrutture civili che, non ci stanchiamo di ripeterlo, non sono obiettivi secondari. Come già in Cecenia e Siria, l'esercito di Mosca colpisce la popolazione per stremarla, distrugge le case, toglie luce, acqua, gas, costringendo a rifugiarsi negli scantinati o nelle stazioni della metro. In questi momenti Kiev è di nuovo sotto attacco e stavolta le sirene hanno suonato dopo che missili e droni hanno colpito. Su Kharkiv i russi hanno lanciato gli S-300, missili progettati per colpire armate nemiche e non civili inermi. E 17 bombardieri strategici si sono alzati in volo verso l'Ucraina per sganciare i loro carichi di morte. Il governo italiano alza il muro contro l'annuncio della presidenza di turno svedese dell'Unione Europea ad approvare la direttiva sulle case Green entro sei mesi. Per l'Italia di fatto imporrebbe l'obbligo di ristrutturare entro il 2030 due immobili su tre per renderli più efficienti da un punto di vista energetico. Raffaella Frullone. Il governo italiano è pronto a dare battaglia. La presidenza di turno svedese dell'Unione Europea ha annunciato che si impegna ad approvare la direttiva sulle case Green entro sei mesi, un provvedimento che di fatto imporrebbe l'obbligo di ristrutturare due immobili su tre per renderli più efficienti dal punto di vista energetico. I proprietari temono effetti devastanti e denunciano quella che chiamano l'eco patrimoniale europea. Per conto del governo interviene il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, che annuncia la presentazione di una risoluzione in Parlamento per chiedere all'esecutivo di scongiurare l'approvazione della normativa che danneggerebbe milioni di italiani proprietari di immobili. La casa è sacra e non si tocca, afferma. In conferenza stampa, accanto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aveva parlato il premier svedese Ulf Kirstersson dicendo che la nostra priorità è rendere l'Europa più verde. Confedilizia prefigura una tensione senza precedenti sul mercato delle ristrutturazioni, una perdita di valore della stragrande maggioranza degli immobili italiani e di conseguenza spiegano un impoverimento generale delle nostre famiglie. Mentre Federica Brancaccio, Presidente del Lancia, Associazione Nazionale Costruttori Edili, chiede subito un sistema strutturato di incentivi statali mirati e stabili. Non sarebbero in regola con le nuove norme, secondo i dati dell'Associazione dei Costruttori, oltre 9 milioni di edifici su poco più di 12 milioni. Secondo Milano Finanza, il costo di queste ristrutturazioni sarebbe di circa 1.400 miliardi di euro a fronte di 60 miliardi di risparmi. E sul caro carburanti, il Governo ha assicurato che proseguirà il confronto con il settore a partire da martedì 17 gennaio, sciopero dei benzinai congelato dopo l'incontro fra Governo e sindacato di ieri, con le sigle di categoria che si riservano di decidere, dopo aver visto il testo del decreto legge firmato da Mattarella e atteso per oggi in Gazzetta Ufficiale, tra le novità, l'obbligo per i benzinai di esporre il prezzo medio dei carburanti. E adesso occupiamoci delle spese obbligate delle famiglie italiane che continuano ad aumentare e costano sempre di più. Lo afferma la CGA di Mestre. Gli acquisti per gli alimentari e le bevande per i trasporti e per la casa incidono infatti su quasi il 60% della spesa mensile media di una famiglia italiana. Luciano Piscaglia. Aumentano ancora le spese obbligate per le famiglie italiane che sono ormai costrette a destinare il 60% della spesa mensile a quel che è necessario per vivere, alimentari, benzina e bollette. Il dato che evidenzia la crescente sofferenza economica di tanti nuclei familiari è stato diffuso dall'ufficio studi della CGA di Mestre. A fronte di una spesa mensile media pari a 2.016 euro, per gli acquisti obbligati se ne sono andati 1.202 euro. 265 euro per benzina, gasolio e mezzi pubblici. 425 euro per le bollette di luce, gas e spese condominali. 511 euro per alimentari e bevande. A causa dell'inflazione spendiamo di più, portiamo a casa meno beni. La gran parte della spesa, quella per cibo, carburanti e bollette, la facciamo per vivere e per raggiungere e tornare nei luoghi di lavoro. Uno stile di vita imposto in particolar modo dall'incaro della benzina e del gas che sta avvantaggiando la grande distribuzione e il commercio online a scapito dei piccoli negozi di vicinato e delle botteghe artigiane. In un anno per una famiglia media italiana le spese per alimentari, benzina e bollette sono aumentate di più del 16% e su base territoriale l'incidenza di queste spese è più alta nel sud e nelle isole rispetto alle altre aree del paese. La classifica della spesa media più alta vede al primo posto le famiglie di Bolzano, seguite da quelle lombarde. In coda alla classifica sono Sicilia, Calabria e Puglia, ennesima conferma della minore capacità di spesa delle famiglie del mezzogiorno. L'assegno unico rinforzato è corsa al rinnovo dell'Ise, l'indice sulla situazione economica dei nuclei familiari, se non si vogliono perdere gli aumenti previsti dalla manovra. Clara Iatosti. 28 febbraio, non dimenticate questa data entro la quale dovrà essere presentata la DSU, la dichiarazione sostitutiva unica per il rinnovo dell'Ise. Lo scorso 31 dicembre è infatti scaduta l'Ise 2022, l'attestazione necessaria per richiedere alcune misure di sostegno economico, come ad esempio l'assegno unico per i figli a carico. La somma dell'assegno è determinata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare. Senza questo valore aggiornato, la somma verrà erogata dall'Inps con l'importo minimo, 50 euro per ogni figlio. Dunque, senza il rinnovo si corre il rischio non solo di perdere gli incrementi previsti con la manovra economica, ma anche di vedere decurtata la cifra corrisposta fino ad oggi in base alla propria condizione. Chi non riceve l'assegno unico in automatico, e cioè chi non ne ha mai usufruito e chi aveva trasmesso un'istanza che non è stata accolta o non è più attiva, potrà presentare domanda tramite le modalità consuete, e cioè il portale web dell'Inps, il contact center da rete fissa 803-164 o da telefonia mobile 06-164-164 o attraverso i patronati o l'app dell'Inps. È la gelosia e la movente dell'ennesimo femminicidio avvenuto a Roma. La 35enne, uccisa ieri a colpi di pistola dall'ex compagno, si trovava all'interno di un ristorante quando è stata raggiunta dall'uomo che, dopo una discussione, ha ucciso la donna. Dopo essere fuggito via è stato arrestato dalla polizia che ha intercettato la sua auto, fuggita dalla zona di via Tuscolana a Roma. La memoria del beato Rosario Livatino, il giudice a ragazzino di 38 anni, ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990. Dalla Camera al Senato, alla CSM, la camicia intrisa di sangue del beato sarà fino al 21 gennaio nella capitale. Per Luigi Vito. Arriva, quando ormai è buio, la reliquia del beato Rosario Livatino, accolta nella basilica di San Marco al Campidoglio dal vescovo ausiliare di Roma, Monsignor Daniele Libanori. È iniziata così ieri sera la prima peregrinazio solenne del sacro cimelio del magistrato siciliano, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 in un agguato sulla strada statale tra Canicattia e Agrigento e poi beatificato il 9 maggio 2021 come martire in odium un fidei. Quella fede era talmente radicata che si vedeva però nella pratica del suo essere magistrato, del suo essere giudice. Lui è stato trovato più volte mentre doveva fare delle sentenze a leggere il Vangelo perché di lì si ispirava. Lo racconta anche la teca che raccoglie la camicia insanguinata che Livatino indossava il giorno del suo assassino. Alla base c'è il Vangelo che sostiene il diritto, in cima la croce e le tre lettere STD ovvero Subtutela Dei, il motto di una vita cristiana che sosteneva fortemente le sue giornate. La reliquia resterà nella capitale fino al 21 gennaio consegnando il suo messaggio di giustizia e santità in diversi appuntamenti, secondo un programma che prevede la venerazione, rivolta prevalentemente ai giovani, nelle chiese di Sant'Ignazio al Campo Marzio e nella parrocchia di San Luca al Prenestino, ma pure due convegni, mercoledì 18 la Biblioteca del Senato e giovedì 19 presso la sede nazionale di Confindustria dedicati all'attualità dell'esempio di Livatino. Sempre in omaggio al Beato, quattro tele, opere dello scrittore Tarben Gellun e dell'artista Piero Pizzi Cannella resteranno esposte in questi giorni nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Ed ora in Vaticano, questa mattina Papa Francesco sta ricevendo in questi minuti la comunità Papa Giovanni XXIII. L'incontro si sta svolgendo presso l'Aula Paolo VI. Nel rievocare il fondatore Don Benzi, il Pontefice ha ricordato che Don Oreste ha iniziato l'esperienza a tempo pieno della condivisione della vita e da lì è nata quella che lui ha chiamato casa-famiglia, un'esperienza che si è poi moltiplicata anche in altri paesi. Andiamo in Iran. Londra ha condannato l'impiccagione da parte del regime di Alireza Aqabani, l'uomo con doppia nazionalità, iraniano-britannica, accusato di spionaggio per conto dell'intelligence britannica, definendolo un atto barbaro che non rimarrà senza risposta. Maurizio Rischino. Il boia torna ad impiccare in Iran. L'agenzia di stampa Mizan Online, legata alla magistratura iraniana, stamani ha fatto sapere che è stata eseguita la pena di morte ad Alireza Aqabari, con doppia cittadinanza iraniana-britannica, condannato con l'accusa di corruzione nel territorio e vasta azione contro la sicurezza interna ed esterna del paese attraverso lo spionaggio per l'agenzia di intelligence del governo britannico. Aqabari, 61 anni, ex viceministro della difesa durante la presidenza di Mohamed Khatami tra il 1997 e il 2005, è stato arrestato nel 2019 con l'accusa di essere una spia britannica, accusa che Aqabari ha sempre respinto. Il regime di Teheran nei giorni scorsi ha postato un video con una missione di colpevolezza di Alireza Aqabari, ma tre giorni fa la BBC ha diffuso un audio in cui l'uomo ha dichiarato di essere stato torturato e costretto ad affermare crimini mai commessi. Il ministero dell'intelligence non ha prove a sostegno delle loro affermazioni, si sente sempre dalla voce di Aqabari, e poiché ho la cittadinanza di un paese con cui loro sono in guerra, stanno cercando vendetta su quel paese con la mia esecuzione. È un atto crudele codardo compiuto da un regime barbaro, ha condannato il primo ministro britannico Rishi Sunak. Teheran ha sempre rifiutato le richieste di Londra di assistere il suo cittadino e continua a stringere il cappio attorno al collo a tutte le persone che arrestano con pesanti accuse anche durante le dimostrazioni contro il regime, che vanno avanti da settembre dopo la morte in carcere di Masa Amini, la 22enne accusata di aver trasgredito le norme per indossare il velo islamico. Alla scoperta dei terremoti nell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha aperto al pubblico e alle scuole per la giornata dell'alfabetizzazione sismica. Letizia Davoli. 16.302 sono i terremoti registrati in Italia e nelle aree limitrofe nel 2022 dalla rete sismica nazionale, diffusi come ogni anno dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in media 44 al giorno, quasi 1 ogni 30 minuti. Eventi che per la maggior parte non sono stati percepiti dai cittadini e i più forti sono stati registrati fuori dall'Italia, ma i dati sono importanti per conoscere meglio il nostro pianeta e il nostro territorio. Avere un rapporto diverso con il nostro pianeta significa saperci difendere, significa soprattutto avere una concezione diversa di quello che sta sotto di noi, che di fatto governa poi tutte le nostre attività. L'Istituto ha il compito di fornire da un punto di vista tecnico-scientifico ai decisori le regole, le regole da seguire per operare una prevenzione opportuna. Qui parliamo della sismicità di questo secolo, quindi dal 2000 al 2022, una mappa con tutti i terremoti registrati sempre dalla rete sismica nazionale dal 2022 di magnitudo maggiore di tre, diciamo quelli un po' più importanti. Le stelle sono quelli maggiore di cinque. Il nostro è un territorio molto fragile, la sicurezza dei cittadini non passa solo da intense attività di ricerca, ma anche dall'alfabetizzazione scientifica della popolazione a partire dalla scuola. L'Italia è una nazione sismica, che è una nazione dove ci sono dieci vulcani attivi, che ha un ambiente meraviglioso, che deve essere protetto, ma dal quale noi ci dobbiamo anche proteggere solo e sicuramente se lo conosciamo. È tutto dopo il Meteo Borghe d'Italia dedicato a Montagnana in provincia di Padova. Grazie del vostro tempo e buona giornata. Grazie del vostro tempo e buona giornata.